ah ragazzi allora grande vittoria strameritata grande occasione della roma tre tiri dal limite dell'area per il monza parati dal nostro portiere quindi voglio partire questo le parate del portiere ragazzi il nostro portiere oggi ha parato tiri da distanza niente di quello che ha parato di gregorio chiaramente perché niente di paragonabile a quello però c'è stato portiere normale e i tiri da 20 25 metri risultano essere tiri innocui quindi questo da segnare da segnare che alla fine lukaku lanciato in porta senza il portiere se l'allunga guardando il sharaqui che chiama la palla con un giocatore solo tra lui e lukaku che è chiaramente un fuorigioco mi immagino lukaku cosa avrà pensato ha detto ma chi mi ha fatto il sharaqui decisivo ragazzi ci voleva corona per far diventare sharaqui decisivo tre punti fondamentali con un tiro di sharaqui che poco prima ha fatto tirare il trecomando lontanissimo perché poco prima di una capitana palla centrale regolare aveva sprita in curva sud e invece dopo ragazzi e sharaqui purga purga su un batti ribatti e beh insomma poi di secondo me strameritato il gol strameritata la doppia ammolizione di di d'ambrosio che da una stecca a belotti chiaramente potrebbe prendere la palla ma prima da una stecca a belotti sulla gamba come un coglione si becca secondo giallo meritatissimo meritatissimo la roma è stata brava a non toccare più giocatori del del monza perché gli arbitri ci hanno detto pure gli arbitri stessi tendono a compensare per non lo so la teoria del cazzo che hanno loro una testa quindi la roma non ha più fatto contrasti il secondo tempo proprio per evitare che l'arbitro potesse dare gialli o altre cose e quindi la roma alla fine non dico essere a giocare la stra bene perché si poteva forse togliere in centrale difesa prima e cercata aprire un po' più la squadra avversaria però c'è stata in campo ha avuto le sue occasioni cioè di rifa o di raffa nonostante so che la roma non ha espresso un gioco bello la roma l'occasione l'ha creata ma l'ha creata pesanti chiaramente facilitare a lukaku e sposta la gente al centro dell'aria da giocatori tecnici che c'ha la roma l'occasione l'ha creata il primo tempo con la smone clamorosa smone sta dentro la porta colpire testa è vero che la prende centrale però quella di belotti che sta lì a terra e che arriva e la prende di pietre sempre di gregorio che secondo me è un portierone portierone veramente solito tosto veramente fisico imponente mi piace tanto di gregorio portierone per me e quindi la roma alla fine la partita l'ha meritata ragazzi ecco c'è poco da fare potesse partire non è detto che vince tutte 4 a 0 cioè c'è sta pure dando a vince uno a zero e poteva essere la palla prima quello casmon palo lukaku palo cioè voglio dire prendi due pali due miracoli del portiere io penso che comunque sia la partita casa meritata quello che voglio dire che i pali diventano cioè veramente sono un problema perché io da quando seguo la roma sono cambiate punte giocatori allenatori residenti però la questione dei pali ci perseguita e qualcuno ha detto sì i pali sono comunque una colpa sì è vero però cazzo cioè ragazzi qua non è che dici sai i pali avranno tutti a bra ma l'anno scorso sì due anni fa sì ma adesso non cominciano a distribuirse cioè quello da smon è brutto ragazzi cioè non è che prendi un palo che la palla gira dentro capisco quello lukaku è un palo esterno e va bene ma santo dio la smontate poteva pure entra dentro quello dirà giustamente uno potrebbe di poter entrare la porta sto d'accordo però santo dio ma che ti dice puro questi cazzo le pali veramente detto questo la roma c'è stata in campo una partita tosta perché loro non forti la roma c'ha tre partite di fila pesanti questa quella che mercoledì giovedì che importantissima in coppa e la partita con l'inter muligno alla fine si va a buttare fuori molto probabilmente volutamente sinceramente posti stato l'albero non avrei buttato fuori ma avremmo unito ma va bene si è fatto butta fuori va a partire con l'inter l'anno scorso la stessa cosa e poi è giustata a fine partita su un video su instagram quindi non mi interessa sinceramente più da tanto perché tanto tu porti a milano e tu porti lì che non può fare niente non può fare nulla contro l'inter perché contro l'inter quindi tanto vale che che si gioca l'espulsione adesso ma se l'è giocata bene questo lo dico perché parola è veramente una merda e niente questo cioè veramente hanno rotto i coglioni alla roma l'anno scorso in conferenza stampa per la questione delle cose della roma alla panchina della roma e quest'anno cioè hanno non fatto sono buttati quei grampi al cinquantesimo per terra gente si toccava la testa ambulanze cose show in panchina una rottura di cazzo e poi dopo piange piange c'è ragione e quindi solitamente alcune cose dei murini non mi piacciono le proteste alcune espulsioni eccessive però questa c'è stata tutta l'avrò fatta pure io detto questo è solo ragazzi ciao a tutti e ciao a tutti quanti